eccomi nuovamente per la seconda parte dell'apertura random dei pacchetti questo è un altro codice regalo che vi do sempre in stile pededraghi ok allora in questa seconda parte apriremo 4 pacchetti quindi abbiamo detto i 3 di forze scatenate e uno di battaglia triunfale ecco appunto allora abbiamo numel caramella rara golbat guardate qui c'è qualcosa guido speriamo che non c'è già qualcosa che ho natu buizel teddy ursa foligo e ursaring prime ursaring prime bello e rosa redraro bene una prime ci voleva forse scatenate mi sorprende come è da scura allora metang incoraggiamento della cheerleader pupitar larvitar remorade tropius cincio squirtle grotel reverbs e frozzer raro andiamo con l'ultimo di forze scatenate ecco un altro pacchetto allora abbiamo war tortor erba vita domande dell'intivistatrice cinciu natu larvitar misdrebus che c'è quasi in ogni pacchetto onyx super recupero reverse e rosa redraro nuovamente ripetuto andiamo con l'apertura dell'ultimo pacchetto di battaglia trionfali no non si vuole rompere allora walmer cercatore gemelle nidola urbit ponita diglett aaron bronzog reverse e grey road raro allora questa apertura random finisce qui ringrazio sempre tutti per la visione e un saluto da poche scienze in 2012 si bella